Pista di Corte Baccas, la pista dove si allenano i Cavalieri della Sartiglia, cancelli chiusi ma ancora per poco. Ieri c'è stata una riunione dell'Associazione Cavalieri durante la quale il Presidente Ignazio Nonni si ha dato delle interessanti novità. Dal punto di vista strutturale la pista è pronta all'uso, sia il fondo che lo steccato sono in buone condizioni e come possiamo vedere sono stati anche risistemati i balloni che proteggono la curva in fondo al galopattoio. Sul fronte assicurativo è già attiva una polizza contro terzi per cui Cavalieri ha detto il Presidente Ignazio Nonnis se non ci sono problemi di sorta da giovedì potranno già entrare in pista per fare le classiche sgambate con i cavalli. La polizza invece che protegge dagli infortuni sarà attiva dalla prima decode di gennaio, dai primi dieci giorni di gennaio fino all'ultimo mese e quindi diciamo che è consigliabile secondo il regolamento dell'associazione non fare numeri, non provare le pariglie fino a quella data. In ogni caso chi le volesse effettuare può farlo a rischio e pericolo proprio.